Una partita di difficile decifrazione al comunale di Capestrello, tra due squadre che nel corso dei 90 minuti hanno fatto vedere contemporaneamente il meglio e il peggio di sé. Hanno iniziato i padroni di casa, entrati in campo forse convinti di fare una passeggiata e puniti alla prima occasione concessa agli avversari. E noi purtroppo non possiamo mostrarvi la rete del vantaggio ospite e ce ne scusiamo perché in quel momento in tribuna uno spettatore ha urtato involontariamente la nostra attrezzatura facendoci mancare il segnale. Segnale che è mancato anche a Luca De Meis che in area si perde Sosa che col sinistro insacca la destra di Gentileschi. Inizio da spavento per il Capestrello che per un quarto d'ora abbondante subisce senza quasi reagire le iniziative ospiti che al terzo si rendono ancora pericolosi con questo diagonale di Petino che sfiora il bersaglio. Poi pian piano i rovetani trovano il bandolo della Matassa e iniziano a giocare come sanno e al diciottesimo c'è un cross di Edoardo De Meis per Franchi che in area ci prova di testa ma senza arrivarci. Passa un minuto e c'è una rovesciata di Giacomo Fantauzzi buona però più per lo spettacolo che per ottenere qualcosa di concreto. Ormai in campo sembra esserci solo il Capestrello che al ventunesimo porta pane e casio al cross per la testa di guerra che incorna bene ma deve fare i conti con Alo che respinge beffardamente la botta dell'attaccante. Ventitresimo in sinistro di Antonelli dai sedici metri con palla che finisce alta di pochissimo. E due minuti dopo arriva il sospirato pareggio e inizia anche lo show di Orlando Aquino che difende con forza la sfera fra tre avversari e dai venti metri insacca con forza alla destra del portiere. I Peligni accusano il colpo e non riescono a trovare le giuste contromisure e alla mezz'ora si registra un cross dalla fascia sinistra che fa pervenire la palla pane e casio il cui destro è troppo fiacco per impensierire amo. Al quarantaquattresimo il Capestrello raddoppia sfruttando con Aquino un clamoroso errore di Bruno in fase di disimpegno. Aquino intercetta e come un falco si avventa sulla palla e insacca sotto la traversa. Ma non è finita qui perché un minuto dopo Giacomo Fantauzzi va in fuga sulla destra e dalla linea di fondo mette in mezzo questo pallone che Aquino trasforma ancora in oro zecchino rubando il tempo ai difensori e mettendo a segno la tripletta personale che gli vale anche il pallone in regalo. Al riposo si va quindi con i padroni di casa in vantaggio per 2 a 1. Nell'intervallo l'arbitro decide di far cambiare maglia al Capestrello perché tra il nero e il marrone in campo ci si può anche confondere un'operazione che a nostro avviso andava fatta all'inizio della partita. E partiamo dal secondo minuto quando Sosa va al cross dal fondo provocando un brivido al già infreddolito Gentileschi. Sedicesimo pericolo in area locale su calciopiazzato di Sosa palla morbida fra le braccia di Gentileschi che ringrazia. Trentatresimo contropiede Rovetano con pallonetto di Aquino che colpisce la traversa e riprende Guerra che in mezza giravolta spedisce al lato fra il disappunto dei suoi tifosi. Un minuto dopo i pratolani accorciano nuovamente con il nuovo entrato Onaki che imposta, riceve, avanza e insacca dai 16 metri quasi senza trovare opposizione. E per finire vi mostriamo un calcio di punizione di Edoardo De Meis che per poco non frutta il 4 a 2. Amor spinge come può ma Aquino da non più di 5 metri alza incredibilmente sopra la traversa un pallone che invece avrebbe dovuto solo accompagnare in rete. Inutili gli ulteriori 5 minuti di recupero e mentre il Prato la mastica Amaro per un pareggio al quale credeva fermamente il Cavistrello continua a navigare con merito nei quartieri nobili della graduatoria. Dopo partita con Fabio Iodice, innanzitutto 15 minuti i primi iniziali veramente da dimenticare. Che è successo in quei 15 minuti? Guarda, ormai io lo dico da... saranno 4 mesi che noi purtroppo l'atteggiamento iniziale è sempre sbagliato. Non lo so, non so più, le provo tutte. Non lo so, è un limite nostro sicuramente, quindi a partire da me perché è normale che le responsabilità sono le prime, sono le mie. Però è chiaro che siamo partiti leggeri come di solito partiamo noi, poi casomai dopo aver preso il primo schiaffo ci riprendiamo. Poi credo che ci siamo ripresi bene, credo che la partita noi abbiamo subito due tiri in porta e abbiamo preso due golle. Credo che poi... penso che oggi abbiamo creato minimo 10 palle e golle, quindi credo che alla fine i ragazzi hanno fatto bene contro una squadra scorbutica. E comunque alla fine un tantino avete rischiato perché dal 4 a 2 siete arrivati al 3 a 2, insomma un tantino avete rischiato. Quel gol che si è mangiato Aquino voleva spaccare il mondo lì? Ma non solo Orlando, abbiamo sprecato minimo sul 3 a 1, minimo 3-4 palle golle in indite, quindi poi è chiaro che la legge del calcio è questa, non fai gol e subisci l'unica azione di contropiede. Poi stranamente prendiamo in casa 3 a 1 una ripartenza che sapevamo che loro sulle ripartenze comunque facevano bene. Però ripeto, a parte i primi 15 minuti credo che la squadra poi alla fine oggi abbia fatto bene, anche se poi la temperatura, il vento non ci ha condizionato nel giocare palla. Credo che alla fine il risultato non faccia una piega. Sosa, un talento che meriterebbe forse altri palcoscenici, ma anche un wake che è entrato forse troppo tardi? Troppo tardi, ha fatto un allenamento in settimana e non ho calcolato lui come assenza perché se no sarebbero stati sette. Con un allenamento non puoi pretendere di far giocare un ragazzo 90 minuti. Sosa è arrivato da noi due settimane fa e potrà dare il suo contributo. Ti dico al di là, oggi sono contento perché chi stava un pochettino ai margini della squadra ha dimostrato di poterci stare, quindi sono fiducioso per la salvezza della squadra.